Sì, purtroppo è una sconfitta che fa male, all'ultimo minuto di recupero diciamo, purtroppo dobbiamo prendere il positivo e ripartire a testa alta, consapevole di aver fatto una partita sotto certi punti di vista buona, sotto altri un po' meno, quindi anche se fa male testa alta, ripartiamo con la mentalità giusta e a preparare la prossima gara che sarà importantissima portare a casa. La USA da due rupi, negli ultimi 30 minuti ha pagato la fatica delle tre gare in sette giorni. Sì, sicuramente l'ultima mezz'ora abbiamo pagato le tre partite in una settimana, infatti avevamo Forte con un problema a ginocchio, Max con un problema colpaccio, abbiamo dovuto effettuare una sostituzione appunto forzata per Fazio che ha avuto un problema e sì, diciamo che l'abbiamo pagata, però potevamo sopperire nonostante questa difficoltà. Ogni festa ha il suo sorprendente finale, Pirotecnica Nazionale, l'unica, Pirotecnica Nazionale, colora il cielo con fontane, candele romane, spara coriandoli, fuochi d'artificio da giardino, Pirotecnica Nazionale, cura i migliori spettacoli pirotecnici per eventi e feste di piazza, Pirotecnica Nazionale, cellulare 330 33 89 24. Pirotecnica Nazionale, cura i migliori spettacoli, cari i migliori spettacoli, oppure i migliori spettacoli, cari i migliori spettacoli, cari i migliori spettacoli, Grazie a tutti.